Buonasera a tutti. Questa sera andremo a visitare un luogo un po' particolare. Siamo a Torino, in via Nicola Fabrizi 27. Avrete già intuito dalla scritta che è sull'insegna. Andremo a vedere un attimino questo bel negozietto. Si chiama Lo Stregatto, come potete notare sull'insegna stessa. Magic Shop Libri Idee Regalo. Quindi è un po' di cose che adesso andremo a vedere nella foto più avanti. È un negozio che si occupa di occultismo, esoterismo, nel senso che riguarda quel mondo un po' esoterico. E' un mondo un po' misterioso, un po' enigmatico, per alcuni oscuro. Però va bene, poi ognuno un po', insomma. E' gestito da una ragazza, si chiama Maria Simpaticissima. E' molto cordiale. Lo so perché ci sono stato, ho comprato alcune cose. Adesso vi farò vedere. Non quello che ho comprato io, ma quello che vende. E poi alla fine, insomma, quello che... Ovviamente stiamo parlando di un settore un po' di nicchia. Quindi sicuramente chi ha acquistato questi oggetti, chi se ne intende, insomma, no? Di occultismo, queste cose qui, no? Di esoterismo, queste cose un po' arcane, no? Non ha bisogno di me per dire loro, guardate che a Torino c'è questo negozio. Io sono certo che lo conoscono, questo negozio, anche perché non è che ci siano tantissimi di questi negozi in giro, eh? Ripeto, sono negozi un po' di un settore un po' di nicchia, quindi anche un po' particolare. Però faccio questa pubblicità, ripeto, sempre in forma gratuita. La proprietaria non ne sa nulla, come tutti i miei video, quando riguarda i negozi, queste cose qui, queste attività, serve per chi, insomma, magari si vuole un attimino avvicinare a questo mondo, si vuole un attimino informare anche, eh? Che alla fine l'informazione, anzi, io dico sempre, no? La cultura, no? Generale, così non fa male, anzi ti apre la mente. E come dice, come disse un saggio, solo la cultura, no? Rende, rende liberi, liberi. Quindi, boh, poi comunque, ripeto, vi voglio dire anche che accanto a questo negozio qui c'è questo dipinto, diciamo così, no? Questo piccolo quadro dipinto, lo andiamo a vedere meglio. Qui c'è la targhetta, qui in basso c'è scritto Mercurio, per te, quindi Mercurio, non ho chiesto all'interno del negozio alla ragazza, ma credo che sia l'autore di questo piccolo e bello quadro. Io direi, ovviamente i piemontesi avranno già capito, e non solo, i piemontesi, dico i piemontesi perché credo lo vedano quasi tutti i giorni e io parlo ovviamente per chi sono, per chi abita, no? Al di fuori del Piemonte o comunque non ha avuto modo, no? di vedere questa statua e questa, ovviamente, insomma, tagliamo corto, abbiamo capito che si, credo che sia Emanuele, il duca Emanuele Filiberto, no? Quella statua e questa dello scultore Marocchetti che troviamo in piazza San Carlo, il salotto di Torino, ed è un salotto veramente, e che è nell'atto di rinfoderare, di ringuainare o, per alcuni, di sfoderare o di sguainare la spada, no? Questa qui. C'è chi dice l'uno, c'è chi dice l'altro. Dove sta la verità? Secondo i miei studi, la verità c'è, nel senso che sta solo da una parte e, ovviamente, datemi il tempo, perché c'è veramente tantissimo da dire su piazza San Carlo, su questa statua e questa, anche sul duca stesso, no? Emanuele Filiberto ha detto, soprannominato, testa di ferro. Vi farò un video, anche più di un video, perché veramente c'è tanto da dire, su questo duca, no? Chi era il papà, quanti figli ha avuto, chi era una moglie, che cosa ha fatto e che cosa non ha fatto. Ha fatto più che non ha fatto, veramente. Anche per questo è la testa di ferro, vi ha dato un piccolo indizio. Perché è stato messo, no? In piazza San Carlo, proprio lui è stato messo su questo cavallo con uno zoccol alzato, con una zampa alzata, quindi andiamo a capire anche perché questo cavallo ha una zampa alzata anziché essere come il cavallo, adesso mi viene in mente così, tipo il cavallo della Ferrari, no? Che ha tutte e due le zampe alzate, tipo imbizzarrito, no? Come si dice, il cavallo della Ferrari, no? Quindi ha un significato anche il cavallo, ha un significato anche questo duca che è stato, ripeto, messo lì, ha posizionato in piazza San Carlo. Ci sono delle curiosità che ovviamente non vi voglio anticipare. per quanto riguarda questa statua e tutto il gruppo della statua, sia il cavallo che il cavaliere in questo caso, no? E perché è stato posizionato in quel modo? Perché in piazza San Carlo ci sono le due chiese, una di Maria Cristina e l'altra di San Carlo Borromeo, quelle dove in mezzo passa divisi, divise, no? Dalla via Roma, parte di via Roma, e quindi dando le spalle alle chiese, vediamo il cavallo in fronte a noi, no? Quindi dà le spalle a noi il cavallo. Quindi perché il cavallo è stato posizionato in quel modo? E non che guarda le chiese, ma guarda da tutt'altra parte. C'è un motivo anche per quello. Quindi datemi tempo, parleremo anche delle due chiese, chi vi è seppellito all'interno, chi le ha volute. Insomma, c'è tantissimo, solo su piazza San Carlo veramente c'è tantissimo da dire, eh? Piazza San Carlo ovviamente tutto quello che c'è attorno o all'interno di piazza, anche dei mascheroni, parleremo dei mascheroni. Se voi vedete, vi mettete in centro, piazza San Carlo, vicino alla statua, tutto intorno, dove ci sono le finestre, vedete che ci saranno tanti mascheroni, no? Queste facce così, no? Un po' brutte, un po' sorridenti, un po', no? Arrabbiate, chiamiamola così. Ha un significato anche quello, quindi... Ma non parliamo... Mi sono dilungato un po' troppo, scusatemi, su piazza San Carlo, ma era così per anticipare un po' quello che serve avanti. Parliamo dello stregatto, no? Quindi questo negozio, andiamo avanti, andiamo a vedere... Ecco, quella foto era quella seranda abbassata perché stavo aspettando che aprisse, no? Come orario fa qualche informazione. 10.13, 15.30, 19, escluso la domenica e il lunedì mattino. Io quando sono andato non ho proprio aperto alle 15.30, eh? Ho aspettato un po', però pazienza, ecco, magari ho avuto un po' da fare quel giorno lì, può capitare, quindi se lo trovate chiuso alle 15.30 o al mattino alle 10, aspettate un po', non andate via, eh? Starà arrivando perché avrai, non so, magari bambini a scuola, non so, non vado a chiedere le cose personali, no? Quindi abbiate pazienza, ecco. Questo negozio comunque è molto fornito, lei è molto preparata. Come potete notare qui in basso a sinistra c'è oggettistica varia, no? Qui ci sono delle collane, ciondoli, no? Tutti gioielli, diciamo così, ecco, no? Ci sono anche delle piccole statuine come possono essere tipo le fatine, no? Oppure gli abitanti, per chi ci crede, non so, del piccolo popolo, tipo gli ignometti, e, no? E queste piccole fatine, no? Che si trovano, comunque, poi ognuno, potete anche chiedere a lei, eh? Qualche consulto, qualche consiglio, qualche parere, la sua opinione, parlate, parlare con la gente, parliamo. Così un confronto è sempre bello, arricchisce il nostro bagaglio culturale, non mi stancherò mai di dirlo. Sulla destra abbiamo qui quelle che ho comprato io, quello che dicevo prima, e abbiamo qui le lampadine, quelle di sale, no? E alcune sono anche portacandele, io ho sia l'una che l'altra, perché queste di sale hanno, ne lascio accessi di notte, no? No? Per, così portano un po' compagnia nelle camere, che hanno una luce comunque bassa, no? Mette una lampadina da 5-10 watt, quindi all'interno di quella struttura, no? Di sale, di quella, del masso, diciamo così, però di sale. E chiedete, chiedete alla ragazza il tipo di sale è, dove proviene, vi darà molte informazioni. Poi vedo, non so, qui sopra in alto ci sono i libri, questo qui che vedete rosso sono gli acchiappasogni, so che funzionano, ho sentito persone del settore, so, insomma, che sono cose che, utili, diciamo utili, ecco, poi che uno ci credo meno, sono cose utili. Certo, se siete cattolici, 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 ho i miei dubbi che crediate a queste cose, però, insomma, uno può sempre, un attimo, no? Avvicinarsi e magari andare su due vie parallele, no? Quelle dell'esoterismo e quelle del cattolicesimo, che magari un giorno si incontreranno, chissà. Comunque, va bene. E anche, ripeto, molto fornita di libri. Qui sulla sinistra c'è una barchica abbastanza grande di libri di vario genere, ripeto, esoterismo, cultismo, abitanti del piccolo popolo, fatine, insomma, chiedete a lei, se non ci sono i libri, lei ve li prenota, ve li prenota e ve li fa arrivare. Quindi, ripeto, è un negozio molto fornito, la ragazza è una, insomma, è del settore, non è una che sta lì a vendere e basta, è una che, insomma, vi dà i consigli giusti. Cosa che ha fatto anche con me e con mia moglie, perché solitamente ci spostiamo in due quando andiamo in questi negozi qua, perché mi piace spaziare in vari mondi, diciamo così, ecco, no? Io leggo sia i libri del cattolicesimo, leggo i libri appunto dell'esoterismo, leggo i libri anche dei musulmani, no? Degli arabi, di egittologia, cerco un attimo di allargare i miei orizzonti con il tempo che ho, alla fine, anche quello lì, insomma, come si dice, il tempo è tiranno, però va bene. Uno solo, volendo, il tempo lo trova, lo trova. Comunque, spero di avervi dato qualche informazione in più, e in questo caso diversa dal solito, perché, ripeto, è un settore un po' particolare. Andate, anche per curiosità, andate a dare un'occhiata ai libri, anche perché vendono pietre, hanno queste pietre, ognuno di noi ha la propria pietra, in base al segno giudiacale, anche, insomma, c'è una cosa molto particolare, veramente. Ci sono queste pietre, ci sono questi ciondoli, veramente, ci sono tante cose molto utili, ma veramente utili. Andate lì, pure curiosità, date un'occhiata, parlate con la proprietaria, vedete un po' cosa vi consiglia, cosa vi sentite voi, anche, no? di acquistare, perché magari volete interessare un attimino a questo settore, o volete avvicinare, volete leggere un libro diverso, fatelo, fatelo, nessuno, insomma, vi dirà mai no, perché, insomma, quindi, boh, io spero di, ripeto, essere stato esaustivo nelle mie informazioni per quanto riguarda questo negozio, andateci, veramente, è bello, va bene? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!